buongiorno amici buon sabato a voi e buon sabato a claudio pina come stai tutto bene grazie si tutto bene spero altrettanto di voi ed eccoci che il nostro consueto appuntamento belli freschi lucidi e pieni di notizie un po bello mi sembra che sia stata una settimana carica innanzitutto ecco guarda inauguriamo inauguriamo una rubrica nuova lo sciocchezza io e citiamo semplicemente citiamo è una citazione di quella che è stata la sciocchezza più grossa che è stata detta da un politico nella scorsa settimana il premio dello sciocchezzaio di questa settimana lo diamo al coordinatore di forza italia antonio tagliani il quale si è lasciato sfuggire una battutaccia come questa la famiglia senza figli non esiste punto e a capo poi naturalmente si è scusato gli è sfuggito dal senna fuggita questa battuta però insomma ognuno dovrebbe prima prima tirare un bel respirone e e aprire poi bocca non aprire bocca senza darle fiato non aprire bocca senza darle fiato e guarda penso che non sarà difficile trovare notizie per questa nuova rubrica perché forse parlano troppo e parlano anche avambera quindi ce ne sarà da dire questa questa oltre parlare avambera è un po anche antipatica però non è solo una sciocchezza è una cosa un po pesantina brutta antipatica e speriamo che 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 faccia ammenda come ha già fatto l'industria per dire le cose che riguardano l'umanità tutta sì ma dico l'unica cosa secondo me così che ci riporta ad una certa normalità e e ad una certa serenità e la notizia che oggi è partito credo sarà già partito il giro d'italia da torino questo è molto consolatorio perché sono quelle cose quegli appuntamenti che 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 se mancano guai se ci sono invece ci danno certezza e speranza allora il 100 il numero 104 del giro d'italia qui non si scherza esatto parte da torino arriverà a milano ma dopo aver fatto il giro di 13 regioni l'italia dall'otto al 30 maggio quindi quindi abbiamo di che goderci questa chermessa due ruote sono 184 corridori che se la danno gambe e per l'italia quindi con con salite con discese con con pianure quindi questa è una cosa che che fa piacere fa piacere sempre ecco ecco un po come come sanremo gli appuntamenti che ci fanno sperare di essere ancora nella normalità della nostra vita italiana io ricordo io ricordo che alle medie e alle elementari prima le elementari e poi le medie eravamo due squadre c'erano quelli che tifavano per coppi e quelli che tifavano per bartali ma io ero per coppi io ero per coppi le figurine di coppi le cose ero per coppi non non chiedemi perché a questo punto non saprei neanche risponderti però poi alla fine sono diventato un coppibartaliano cioè nel senso tenevo a tutte e due perché loro hanno dato anche fra l'altro una lezione di etica sportiva che non ho più visto nel mondo dello sport quel famoso passaggio di borraccia in corsa l'uno l'altro insomma veramente una un'etica sportiva che fa piacere ricordare e piacerebbe tanto rivedere adesso con quegli scambetti che si fanno tutti in tutti i campi quindi che bel ricordo che ci hanno dato proprio coppi e battali magnifico tra l'altro scusa non c'entra col ciclismo ma battali ha fatto anche il segnito ma infatti ma infatti non sorprenderà io ti favo per bartali eh 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 sei sempre stato più amato no ma voglio dire lui ha eh no ma battali ha preso il premio giusto dei giusti perché ha fatto delle delle cose molto molto etiche anche nel periodo della guerra salvato dai tedeschi non so che dicendo insomma comunque bravo battali infatti io poi tengo a tutte e due ti è ti è io tengo a tutte e due senti senti ma il io credo che tra a proposito a proposito hai guardato in cielo eh in durante queste serate hai guardato ma non l'ho visto non l'ho visto ho guardato non l'ho visto ecco perché perché c'è il razzo cinese che ha messo in orbita e tra l'altro abbiamo scoperto che i cinesi stanno costruendo la loro stazione spaziale che si chiama aspetta che me lo sono scritto ti su gang il palazzo celeste e il razzo che ha portato in orbita il primo pezzo di questa base spaziale che ora quindi sarà in concorrenza con quella europea eccetera sta cascando sta ritornando sulla terra si presuppone che che si disintegrerà non succederà niente di particolare però tutti guardano in alto e ci sono le scommesse su dove andrà a cadere per quanto riguarda l'italia sono tremebondi quelli che sono a sud di napoli per cui devono stare attenti quelli a sud di napoli perché c'è il pericolo che un frammento di questo razzo caschi da quelle parti il tutto si deve risolvere nell'arco di questo weekend tra stasera e domani però di questi cinesi mi sembra che cominciano un po' esagerare perché mi combinano troppe adesso anche io io cammino rasente ai muri anche se la nostra zona nord lombarda dovrebbero essere fuori pericolo ma chi si fida a questo punto camminiamo rasente ai muri e speriamo che non ci caschi in testa qualche altra cinesata che mi sembra che in questo periodo ne abbiamo preso abbastanza dall'oriente è partito da là questo virus con il quale stiamo combattendo e ora stiamo cercando di uscirne vaccinandosi tu sei stato vaccinato con il vaccino Schick quello del Pfizer eccetera io invece sono stato vaccinato con il vaccino proletario l'AstraZeneca che però sarà proletario però è molto più forte del vaccino della Pfizer però io devo aspettare a luglio a prendermi la seconda dose tu invece te la prendi la prossima settimana o giù di lì no? eh sì io lunedì dovrei prendere la seconda dose speriamo di non avere effetti speciali mi bastano questi sì rimane poi un grande mistero perché un vaccino e l'altro no non so non so poi ci sono questi 250.000 dosi stipate nei frigoriferi del sud di AstraZeneca non si sa perché insomma questo continua un po' il mistero dei vaccini e torna in pista il problema vaccini con questa cosa con questa proposta di liberalizzazione dei brevetti che arriva tra l'altro da Biden che ha scatenato un putiferio nella Big Pharma e anche in borsa perché sono scese le azioni questo per dire tutto il legame il filo rouge che lega tutti ma diciamo il principio etico è molto molto bello perché siccome dobbiamo vaccinare avevo sentito una cifra spaventosa di 11 miliardi di vaccinazioni nel mondo che bisogna fare quindi è inutile star lì a strapparci i brevetti bisogna liberalizzare almeno provvisoriamente come è stato proposto ovviamente Draghi ha subito aderito come la Francia Merkel meno tergiversa perché è chiaro che ci sono degli interessi colossali dietro però insomma se non è una necessità mondiale questa non so quale può essere Big Pharma ha guadagnato abbastanza e guadagnerà ancora a un certo momento impara da Bill Gates dalla sua fondazione impara da chi si è inventato il vaccino antipolio che ha dato il suo vaccino libero dicendo questo è il mio regalo a tutti i bambini del mondo ecco questa è gente per bene questa è gente per bene ti parli? certo certo ma il Big Pharma poi dico hanno ricevuto anche tanti finanziamenti dagli stati per poter sviluppare velocemente i loro vaccini e comunque è un interesse anche dei Big Pharma che tutti velocemente riescano a vaccinarsi perché poi chiaramente questo vaccino non sarà il primo ogni anno ci dovremo fare un richiamo per cui il business non scemerà certamente nel corso dei prossimi anni poi scommettiamo che oltre a questo virus tra poco ne verrà fuori un altro e un altro e un'altra ancora non sono preoccupato per i guadagni di Big Pharma non sono preoccupato siamo più preoccupati noi della loro esosità questo sì che intervengano i governi a questo punto in modo forte come sembra che sia e poi nell'interesse di tutti di tutti quelli di tutto il mondo che tutto il mondo riesca a vaccinarsi perché se ci sono delle sacche di umanità che non si vaccina abbiamo la permanenza di un sacco di untori che girano per il mondo e ridiffondono nuovamente il vaccino questo tuo riferimento manzoniano rivela una tua cultura letteraria notevole gli untori gli untori manzoniani dovresti fare un 50 secondi o un salotto dell'idea su questo tema gli untori sono tornati o torneranno non tu stai dimenticando di essere un uomo di cultura tu ti stai buttando troppo sulle news dimenticando la tua funzione di editor di cultura la mia visione giornalistica e cronistica talvolta irrompe in quello che poi è stato la stratificazione culturale che esisteva naturalmente anche prima di diventare giornalista ma allora visto che tu mi solleciti sulla cultura è notizia di oggi che è stato pubblicato a 20 anni di distanza dalla scomparsa un romanzo di Isaac Bashevis Singer premio Nobel per la letteratura nel 1978 e Isaac Bashevis Singer io ho avuto il piacere nei miei viaggi intorno al mondo eccetera di andare a trovare e trascorrere con lui un simpatico pomeriggio a New York dove dove lui viveva tranquillamente e semplicemente quando sono arrivato nel suo appartamento è venuto lui ad aprirmi la porta di casa in maniche di camicia tranquillo ci siamo seduti abbiamo parlato ovviamente Singer scrittore di origine ebraica scrittore che originariamente lui è sempre scritto in idish eccetera abbiamo parlato anche dell'olocausto abbiamo parlato erano i periodi in cui c'erano anche degli sceneggiati televisivi che parlavano anche di queste cose che non dobbiamo mai insomma Isa Bascevi Singer era un simpatico signore molto cordiale e molto simpatico con il quale ho trascorso un pomeriggio a New York e credo che questa mia intervista fatta allora sia uno dei titoli dei miei ebook intitolati nella collana diario del novecento per cui se qualcuno è incuriosito lo può andare a trovare questa è una bella lettura vedi che basta stanarti un momentino e salta fuori e salta fuori Simonelli scrittore intervistatore oltre che editore di grosso calibro perché qui allora stiamo scendo un po' dall'argomento della cronaca ma sì è vero questa cosa qui adesso potrei citare anche io qualcosa che conosco che hai fatto anche con autori italiani con cui non mi ricordo adesso il nome ma addirittura un grosso nome italiano che hai incontrato per un'intervista che ci hai passato due giorni insieme in Sir non so in Toccana ah questo è Cesare Cesare Zavattini Cesare Zavattini ecco sì Zavattini è famosa è famosa questa storia dell'intervista più lunga più lunga del mondo che è durata due giorni in giro sì uomo simpatico molto caldo Zavattini avrete anche mangiato e bevuto bene immagino io non c'ero e mi dispiace no poi perché doveva essere un'intervista così un'oretta un paio così e invece poi chiacchiera chiacchiera là da Roma andammo c'aveva una casa a Genzano mi portò a Genzano in questa casa dove c'era 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 una sua assistente la quale si preoccupava naturalmente anche della sua alimentazione per cui lo teneva sotto controllo in ogni modo fu un'esperienza molto simpatico come un'altra esperienza senza direttamente il protagonista ma con i manoscritti del protagonista fu quella che che ebbi andando potendo andare trascorrere giornate e giornate nello studio di Giovannino Guareschi tra tutte le sue carte tutti i suoi manoscritti feci ben dieci puntate sulla Domenica del Corriere di questo di questo di questa ricerca e venne fuori anche vennero fuori anche tanti documenti inediti che per la prima volta pubblicai sulla Domenica del Corriere beh insomma ne ho fatte ne ho fatte anche sulle acque libiche o meglio non libiche rispetto ai pescherici italiani piuttosto una cosa antipatica direi molto antipatica ti pare? Eh sì ma insomma questi libici scusa io vorrei vorrei che il ministro Di Maio il quale non fa altro che andare in su e in giù con la Libia cercasse un po' di risolvere questa questa situazione anziché farsi vedere che va in Libia ritorna in Libia dichiara questo dichiara quell'altro cerchi di risolvere un po' questa situazione perché come si sa i libici hanno così motu proprio deciso che le le acque territoriali siano molto più estese di quelle di quelle che sarebbe lecito che avessero il fatto sta che in quel in quel tratto di mare naturalmente hanno fatto la furbata perché lì ci sono i famosi gamberi rossi che i pescatori italiani vorranno andare a pescare come vorranno andare a pescare i pescatori libici non lo so però che i pescatori che i libici si avvicinino alle banche ai pescherici italiani e sparino ad altezza d'uomo è un pochino complesso da accettare sparano sparano sui diritti internazionali perché quelle sono acque internazionali quindi le meno adatte per andare a mitragliare i pescherici altrui ecco questa invece e questa è bruttissima perché a momenti si scappano i morti quindi peggio di così l'altra invece è più fine è più English style perché è il brasso di ferro tra Inghiterra e Francia intorno alle isole della Manica perché c'è la storia del Brexit che ha tolto i diritti eccetera eccetera insomma sti poveri sti poveri francesi della pesca che devono adesso chiedere il permesso di pescare ma ma Londra dà col contagocce insomma non so pare vado a Spanna non so se hanno 300 richieste ne andate 30 o 40 quindi hai visto hai visto hai visto che c'è una ministra francese la quale è salita in barca è andata anche lei in mare a protestare c'è c'è una 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 ministra francese molto molto agguerida e poi i francesi hanno hanno minacciato hanno minacciato di togliere la luce all'isola all'isola che è oggetto della questione di Gersi credo l'isola l'isola è l'isola di Gersi se ricordo bene per cui sono giochetti e infatti ci sarà un incontro credo programmato tra Macron e Boris Johnson e Boris Johnson sta attraversando un momento di 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 grande di grande così gioia perché ci sono state delle consultazioni elettorali e sono in corso gli spogli e sembra che il suo partito i conservatori stia progredendo molto a danno dei laboristi insomma Johnson sul quale noi abbiamo un po' scherzato quando diceva a proposito delle sciocchezze della settimana se ci fosse stata anche lui anche lui merita una segnalazione se fosse stata anche allora la nostra rubrica la sciocchezza della settimana una sciocchezza fu quella che lui all'inizio della pandemia disse ah ma io non mi preoccupo tanto ora aspetto l'immunità di Gregg eccetera salvo poi prendersi la mazzata del covid vedere sulla propria pelle quale potenza ha questo questo virus quando ti acchiappa e quindi fare marcia indietro e ora sono i più bravi hanno vaccinato quasi tutti tutti con AstraZeneca se lo ricordi i nostri amici italiani i nostri compatrioti specialmente del sud i quali non vogliono farsi vaccinare con AstraZeneca ma scusate si è vaccinato con AstraZeneca anche il nostro presidente del consiglio Draghi il presidente del consiglio Draghi mi sembra che sia piuttosto pimpante perché ieri ha fatto un intervento molto molto tosto in Portogallo ha parlato ha bacchettato l'Europa insomma ha proprio detto una cosa giusta e sintetica ma molto di grande respiro che dice nell'Europa nell'Italia sono come dovrebbero essere e direi come dovrebbero essere aggiungerei come potrebbero essere anche no no questa è una cosa che continua a piacermi questo Draghi lo teniamo allora Luciano lo teniamo Draghi cosa dici? lo teniamo lo teniamo lo teniamo e perché poi finalmente quello che dice i suoi ragionamenti dimostrano che lui ha una visione ha una visione di futuro vuole che le cose si mettano in una certa maniera diversamente dagli altri che più che avere una visione avevano una voglia di essere seduti sulle poltrone e andare avanti gigioneggiando di qua e di là pensando alle primule penso un po' penso un po' all'idea all'idea delle vaccinazioni e il primo progetto per le vaccinazioni che è stato elaborato è quello di fare dei gazebi con le primule c'erano le vaccinazioni fashion e io al posto delle vaccinazioni fashion preferisco le vaccinazioni alpine con figliolo che se ne va di qua e di là che abbiamo raggiunto anche le 500 mila dosi al giorno di vaccinati insomma tutta un'altra storia ma guarda che la tua rubrica dello scioccheziaio deve diventare un'enciclopedia dello scioccheziaio perché non c'è più posto tante sono le cose da mettere dentro ti pare? bene meglio così dai ci sono purtroppo delle brutte storie come questi femminicidi che continuano come quel torinese il quale ha aspettato la moglie che uscisse dall'ascensore con la pistola spianata e così ha chiuso la storia del suo del suo matrimonio che era già che era già finito oppure ci sono quella brutta di quell'untore dell'HIV che era in galera che hanno liberato perché si deve curare e però va a curarsi nello stesso ospedale dove una delle sue 200 donne che lui aveva impestato con l'AIDS va a curarsi insomma l'Italia l'Italia continua ad avere questo bianco nero questo chiaro scuro dammi un po' di chiaro per concludere per concludere questa questa nostra conversazione una cosa chiara una cosa chiara diciamo anche se chiara scura è quella cosa del caso Superlega che non è chiara ma fa anche un po' ridere che cosa sia venuto in mente questo trip di fare la Superlega ha incasinato tutto adesso ci sono le conseguenze perché adesso si crea il grande teatro dei pentiti e dei non pentiti e adesso stanno girando una serie di multe da brivido ecco come finirà non lo so ma è stato un teatro veramente io ogni tanto lo dico ma lo devo sempre dire Totò Peppino è la mala femmina insomma sono veramente peccato che non ci sia più quel bel cinema italiano quel bianco e nero di costume perché qui ci sarebbe ci sarebbe da fare dei bei pezzoni di critica di costume ecco quindi lo sai che ti dico lo sai che ti dico che visto che tu hai messo in campo il calcio mi è venuto in mente Murigno il quale arriva come allenatore della Roma e furbetto come ha scritto dai Roma e ci sono stati gli inglesi che non riuscivano a capire ma che cosa vuol dire questo dai Roma dai no Roma sì questo è bello infatti poi ho visto non prendiamo in presido questo grido di Murigno dicendo e concludendo dicendo dai Italia dai Italia dai dai Italia dai e poi giriamo in vespa giriamo in vespa come Moretti dai dai Italia giriamo in vespa come Moretti via dai Orlando dai Italia dai questa questa scena finale è molto simpatica via facciamo così facciamo così dai Italia amici dai Italia vai dai Italia